... Siccome che... Ricordiamo... Siamo presentati, Palmiro Caggino, assessore a... Ci saranno attività varie ed eventuali. Eh, che non si dica che è un assessore. Ci saranno anche assessori in sala. Vuole fare... Un saluto a tutti i colleghi che avevano un cacchio da... Siccome che... Allo scorso si è successo un po' di casini che... Siamo al giorno di Natale, mi raccomando, assessore. Però sta buonino che... Perché per la distribuzione dei pacchi di Natale avevamo... Avevamo careggiato uno su un cariulo che l'avevamo vestito da Babbo Natale e che lui girava a dar via i pacchi, però... Ma chi è che si fa vestire da Babbo Natale in un cariulo, si fa mettere dentro chi? L'obbiettore. Non l'obbiettore. Ma l'obbiettore, ma povero obbiettore. Solo che l'inte, l'inte, una roba. Alla vigilia di Ferragosti erano ancora dietro dai miei pacchi, i toroncini si squagnavano tutti che si erano fatti dei mastigotti dentro... Guardi che nessuno capisce... State capendo cosa sta dicendo? Non so mica invorniti come te, guarda che... Cos'è c'è il squacuerone in quella testa lì che... Cerca di dirgli... Dica cos'è squacuerone, siamo a Campobasco, non tu ti conosco... Cos'è squacuerone? Se mi fai finire che... Allora noi... Un gemellaggio volete fare? Ci siamo rivolti a più alte sfere politiche per vedere di risolvere, di pistolare questo problema. Abbiamo inviato una messiva che adesso... Non ho capito a chi... La snocciola. La giunta del comune... Aspettabile Bavo Natale e per conoscenza alla signora Befana, Santa Claus, i Re Magi e tutta la vostra coalizione politica... Ma non è una coalizione! Avete scritto la letterina di Natale, dai! A parte che io non ci credo, perché io sono gnostico, praticante, non credo neanche nel Capodanno per dire quanto... Approfitto di questo messaggio a reti unificati... Ma che cosa? Ma non è mica a reti unificati, mica a Capodanno? Lei è il potente? No, non poteva venire che doveva fare un bagaglio al Capodanno. Una? Un... Cosa doveva fare? No, mi toccare che mi sdugli... Givottino, scopo. Troppo facile fare della propaganda pre-elettorale a dar via i tironi, i cioccolati, i pandori e raccogliere dei conseggi. La gente, ci siamo stufati, bisogna... Difatti... La presente per chiedervi dei doni... No. Per la Romagna? No, queste cose concrete, cose concrete ci vogliono. Però sì, però sì, sì, mi faccio... Allora, dica cosa avete richiesto a Babbo Natale. In primis... In primis... Che la maciulagine... Mucillagine. Ce n'è andata però... Basta di darci... Quest'anno c'era anche delle piscine la maciulagine. Mandatevi giù in Jugoslavia che... Allora... Solo noi. E poi... Deve essere buono, non deve essere cattivo. No, nessuno. La maciulagine ha nessuno. Da spargugliarla un po' più. No, abolirla. A volte... In secondi... Poi... Se si potevate mandarsi giù quelle... Quelle vagonate di tedeschi... Li avete finiti? Perché non... Questo è il problema del turismo. Spieghi, l'economia va sviluppata. I tedeschi arrivano in Romagna e sviluppano l'economia. È un modo per risolvere la crisi. Giusto? Ascolta, allora... Va avanti! Che fa l'assessore che fa l'economia? I tedeschi... Però... Della passerina, che è la passerina, è sempre un bel riempitivo. No, no, silenzio. I tedeschi di amando sessi. Così si dice. Si fa per attirare il colpo. Ultimo, ma non infundisci... Se si può mandarsi giù... Della pace. Oh. Perché è una roba che la chiedono tutti e si vede che tira. È un articolo che... Per me non voglio niente. Oh, questo è bello. Uno dei pochi assessori del mondo che non chiede niente per sé. Niente che non si dica che dopo io ho preso dei... Dei? Se è alla fine del giro, proprio... Mi dovesse rimanere... A me mi piacerebbe quel dispositivo... Quello lì che mette i dischietti, che dopo c'è i schermi al plasma, che fa le foto, che dopo le mandano per i telefoni. Ah, vuoi metti i S. Il GSM. I MMS. Non parliamo di sigle politiche, che è Natale, che non... E poi... Quello lì, che dopo sopra si scaldi la piada e c'ha la fettatrice... Di fianco che la mandi, fa anche la macchina del caffè e spiega più. Mi piacerebbe quel macchinario lì. High-tech. È una spiegazione. Si lega in allegato la casa da pacco con le uova di Pasqua, perché se i regali si è rimandati giù impacchettati, è meglio se non è troppo coso. Rimanendo a disposizione, per eventuali disposizioni, si inviano i più felici ringraziamenti a lei. A chi? A Babbo Natale. E alla sua bella famiglia, se è sposato. Non è sposato a Babbo Natale. Dove essere? Firmato a Cangini, Palmino, sessore del comune di Roccofritto, Italy. Ma con questo cosa volevo dire? Ma non mi fai leggere! Con questo cosa voleva dire? Fai un cagino! Cosa voleva dire? Non lo so. Però c'ho ragione e i fatti mi cosano. Palmino Cangini, assessore, uno dei tanti, fa pochi minuti. State con noi.